Dai, facciamo un attimo e vediamo dove va. Che step è stato quello del tipo con la parruca? 3? 4? Ciao, Yagami! Ehi, Sana! Come va? Bene, la sai l'ultima? Il tizio della casa di produzione è venuto da me per presentarsi ufficialmente. Non scherzare, ed era un producer? Credo di sì. Altrimenti non sarebbe venuto da me dopo avermi sentito a cantare. Beh, perché non poteva essere un talent scout e un producer. Ma se agenzia farà il possibile per trasformarti in una star, mi ha detto. Mi ha dimenticato di dire porno star. Poi, come fanno i giornalisti, dicono mezza verità. Oppure, dicono cose che se le ribalti sono esattamente giuste, quindi... Candioso. Polle, è vero? Mi vengono i brividi solo a pensarci. Io su un palco, come i veri cantanti. Un talento come il tuo te la caverai. Sì, puoi farcela. Ma che collo ha questo qua? Le tue canzoni arrivano al cuore della gente. Manca la tua pancia, quanto... Lo so, lo so. Io lo so. Con un talento come il tuo sarai presto una superstar. Eccolo qua, il tizio ossigenato con gli occhiali. Siete così gentili. Finalmente è successo. Sei già a un altro livello. Stai esagerando un po'. Che brutta che sei. Forse. Famosa, brava, fortunata. È davvero in gamba. Triste lui, perché lui non è famoso in gamba. Ah, dice che lui... Come si chiama? Cavolo, come si chiama? Nel senso momento ho un po' di memoria. Quello di Death Stranding. Forse posso chiedere com'è andata con l'agenzia. Quindi bisogna ritornare per chiedere com'è andata con l'agenzia. Possiamo farlo adesso, no? È la step. Allora, adesso andiamo... Guarda che così, per controllare abbiamo una qua. Ignota. Abbiamo ancora questi che non siamo alla fine andati. Siamo persi via, quanto pare questo. Anche qua. Quindi se ne conto già quattro. Più quella in sospesa in realtà... Nell'essere. Non si può... Darle perlette... Queste erano i tizi. Ok. Fatto. Fatto. Via con la brezza. Via con la folata. Un attimo che faccio un po' di pulizia. Stacco subito. Dai andiamo alla Genda a questo punto. Torniamo un attimo sulla missione principale. Che potreste mica dirmelo quando ho entravo? So... Sì. Allora... Ma fiu che si viva. No? Allora. Ma fiu che si viva? Sì. Allora... Ma... Non mi siente... A che mi... Mi sono giocato... ... C'è un metro che insieme Grazie a tutti non è poi così plausibile la premeditazione di cui parlava in cajira non è è stato un caldo incredibile è stato un caldo incredibile non è stato un caldo quindi se non c'è per me non c'è solo un caldo se non c'è il problema che? il colore è stato un progettino ma, perché? quindi cosa facciamo? perché? perché? C'è un po' di risultato che questo uccionismo si è morto. Se il caso di un uccionismo si è morto, il giocatore si può essere morto. Ma non è solo un po' di perdita, ma non è solo un po' di risultato. Non c'è un po' di risultato, non c'è nessuno. C'è questo? questo? sembra cos'è l'avvelenato come ninja no? sembra sì Matteo dice comunque risse o non risse il colpevo deve almeno un minimo provare a cercarlo ma qui si deve non ci fan caso cose normali dovessero cercare tutti ne sono sicuro devo capire di che cos'è che è morto alla fine comunque un'autopsia servirebbe se andiamo all'orbitore guarda che no è morto tempo fa allora allora il testimone dico di aver visto questo losco figuro litigare con Ashiki la faccia e il corpo erano completamente avvolti già qua nell'impermeabile rendendo di fatto impossibile identificarlo il dettaglio che c'era prima era il vice direttore csfa appunto basta questo era il dettaglio di prima comunque sono trovato privo di essenzio poi si è stato colpito da un assalitore ignoto molti testimoni sostengono di aver visto un uomo che indossano impermeabile nelle vicinanze d'attacco Ashiki è stato trasportato in ospedale e è morto dopo essere stato in coma per tre settimane in coma tuttavia la sua morte è stata ignorata dai media forse a causa del tempo trascorso fra il vero incidente e il momento dell'eccesso scusate ho avuto un incidente è stato in coma non è una cosa da poco ma aggiungiamo l'amante e la tira le palle no no vabbè viene con noi a me continua a sconettimi dalla chat eh perlomeno eh quella katana sono i mazzucane cosa è a a perché? Allora, sono stati sentito a te. O? Hai visto anche questo? Hai visto che io sono chiamato con la cattura di un giro? Quali cosa... Non ti senti a parlare! Noi, mira questa cosa ho cattato, mira Ok, ho paura Ci faccio dare Dov'è? Dov'è? Mi ha spuntato un'altra cazzo Ma dove cazzo è andata l'altro? Noi, faremo qui Ma fa calma, sapi lei Dai Sì! Tutto? E poi non è insocanto? Vabbè, che problema mia Andiamo, taxi E la prendi? Questo preziosissimo cavolo a quattro soldi L'aluminio opaco E poi andiamo E poi andiamo E poi andiamo Sì, è vero che c'è? Non è vero. Sì, è vero. Non è difficile riconoscere lui eh? Allora, proviamo a prenderlo Grazie Tutti gratis Ah si? Io vado lì Quando so che voglio bere qualcosa gratis Basta che vado lì Vitamina C Smaltire la sbornia C'è la ogni sbornia Un attimo però Anche questo Salterà fuori la spunta La vita non è salita di un millimetro Grazie a te Beh La vitamina C costa l'ile di Dio C'è l'aranciata costa l'ile di Dio Vediamo, giriamo intorno Questa Qua funziona la faccenda Funziona la faccenda Ho sostituito Di Aya Di Aya Sperare che sia lui a trovarmi Scusi, sono passato davanti al naso a tutti Non mi riconosco ma io non so da farsi Conchiglia graziola Questa? Ah Una bella signorina Non mi riconosco ma io Conchiglia Non mi riconosco ma io Non mi riconosco ma io Eта Eta Questa è il caso Hai capito un cazzo lui Comunque sei un pirna eh Se non sei passionale però E se è normale togliersi la parrucca In mezzo al pubblico Prima hai detto ma lo vuoi far qua in pubblico E poi togli occhiale e parrucca A me è io così E poi No, 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 cara Non te la cavi così, eh Eh, me l'hai già detto, eh Ah, non c'è il colo un po' strano in avanti, quello lì Eh, buongiorno, ciao il guercio Allora, eh Naga sui documenti con Kaito, vabbè E per fortuna non ha fatto commenti sconci E nemmeno ci ha provato Sennò la figura, però è stato carino, no? Se avessi detto, ah, che bella ragazza, ci proverei subito Eh Così andiamo a farlo più volte Mi sembra che ti ho visto che ti sei iscritto un giorno fa, o che? Hai messo il follo Mi piace Sembra che abbia avuto un'ottima istruzione Se è diventato vice direttore Cosa aveva fatto la quinta elementare? E questo è il motivo per cui Kajira l'ha tirato dalla sua parte Ah, una cosa Vedo che c'è qualcuno che sta seguendo Io sto facendo questo Judgment Perché in teoria Si farà in tempo Però il seguito che esce il 24 Sulla Playstation 5 si riesco Quindi siccome non l'ho giocato Lo stiamo facendo adesso Insomma Ok, dovevo andare a vedere lì E questo è il suo Kajira Il nome del pubblico è Queen Rouge L'acqua è abbastanza alta E' un po' di pavoli Siamo già stati da Queen Rouge Non è quello di Yamura Che era Shono Shono è a capo della ricerca sul CS9 Sicuramente lavora sotto chilo Lo sappiamo già Dove l'ho comprato? Beh lo trovi Anche su Amazon lo trovi Buon prezzo E' un po' di pavoli 14-15 volte Che strano Dobbiamo andare lì Dobbiamo vedere se c'è la telecamera Oppure ci sarà il solito discorso infernale Di trovare indizi Un'altra volta ti ricordi Matteo Che non si trovava Cos'è che era Una vita o qualcosa Piccolissima Dettaglie Allora E' stato visto il cabaret Una notte dell'assassina Shiki Poi un taxi Le registrazioni Dicono che quella notte Shono ho preso un taxi Quindi supportando Su Ali Vabbè Morte Condurre a contusione cerebrale Cioè mi piace Perché comunque Voglio dire E' stato poi Un omicidio Alla fine Non fanno indagini Su questo Secondo molti testimoni Blablabla Secondo alcune voci Shiki aveva intenzione di svendere Il CSFA Al gruppo di Kajira Chiudendolo Ma quando il CSFA Vabbè Lo conosciamo Ok Raggiungi Lo del delitto Andiamo Uscire non c'è problema Entrare è chiuso la chiave Uscire E' aperto Eh sì Io sappia sì Controllavano Sì Di solito è così Anche negli altri Riesgerenza Aspicoltà Siamo normale Perché se non si poteva O non te lo lasciava fare Oppure ti diceva Comunque ti diceva Non si poteva Insomma Tipo Però sono due livelli di difficoltà Ma sono tanti Sì E' strano Perché voglio dire Alla fine Essendo morto il tizio Risulta come un omicidio C'è poco da fare Quindi va perseguito Non è che Ah mi piace Che ha detto E' qui vicino Ma vedete Non è il locale di Kajira Scusa Qui vicino proprio Ma Ma va a farti un giro Kajira Prego Poi è chiuso Mi sembra Ma poi è chiuso Doppio attacco Ecco Vedi che qua Adesso c'è il tramonto Chiamiamolo così Che poi non No Giriamo di qua Pare che In realtà Possiamo anche mettere Effettivamente Mettiamo Waypoint Direttamente Salve 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 Gua di là C'è un oggetto Un ciotolo Preziosissimo Ciotolo Qua Un ciotolo Prendere il taccuino E segnarsi Cazzo C'erano dei hits Per due volte Ma questa cosa qua Ti prende un po' Di sorpresa Perché Non ce l'aspetti C'è subito Il triangolo Da premere C'è cosa ci vorrebbe C'è la rotazione Della minimappa Perché Con il waypoint C'era comoda In effetti Questa minimappa Ovviamente Ok Quadrata Per lui Non c'è problema Sporcare La camicia Pantalone Prendere il taccuino Ma c'è bisogno che stia in terror Nell'acqua tra l'altro Ammesso che sia acqua Eh ma è una cosa demenziale Ma è una cosa dovuta Sdraiarsi a fare Hai il condom flessibile Figuriamoci se fosse rigido Ok